Ciao a tutti da Marco Rinaldi per HTCblog.com Oggi grazie all'ufficio stampa di HTC abbiamo sul banco di prova HTC Titan Attualmente è il più potente Windows Phone presente sul mercato Grazie al suo processore da 1.5 GHz Allora andiamo innanzitutto a vedere l'aspetto esteriore Il telefono si presenta davvero grande Molto bello, molto imponente Con materiali robusti, piacevoli al tatto E si impugna bene nonostante le dimensioni generose Abbiamo quindi questo schermo da 4,7 pollici I classici tasti di Windows Phone Davanti a una fotocamera frontale da 1.3 megapixel Quindi non VGA Di lato il bilanciere del volume, il tasto per la fotocamera L'ingresso micro USB da questo lato Dietro la fotocamera da 8 megapixel Che fa davvero delle ottime foto Con flash dual LED Sotto la scocca troviamo Il processore da 1.5 GHz della Qualcomm Che lo rende come dicevo il Windows Phone più potente sul mercato 16 GB di memoria interna 512 MB di RAM E una batteria da 1600 mAh Lo schermo da 4,7 pollici Ha una risoluzione 480x800 Quella standard di Windows Phone Nonostante questa risoluzione abbastanza bassa E lo schermo così grande Devo dire che la qualità del display è davvero ottima Non si vede ogni pixel Infatti possiamo anche avvicinare Come potete vedere il testo è ben definito In tutte le situazioni, anche nelle pagine web Il testo si vede sempre molto bene Il che mi ha stupito Io temevo in una situazione peggiore Data questa risoluzione con questa dimensione di schermo Abbiamo l'ottimizzazione SRS Tipica di HTC Ottimizzazione audio Vedete? L'ottimizzazione SRS Sia per i video che per la musica Che rende il suono molto più profondo Con dei bassi migliori Abbiamo il telefono intelligente Che si può silenziare Cavovolgendolo se sta suonando In una situazione in cui ci troviamo ad esempio In una conferenza o all'università Abbiamo la modalità Pocket Che fa suonare più forte il telefono Se rileva di trovarsi all'interno di una tasca o di una borsa Abbiamo la possibilità se siamo in telefonata Se poi poggiamo il telefono così Automaticamente viene attivato il via voce Il che è molto comodo Queste sono le impostazioni tipiche di HTC Premetto subito che questo telefono mi piace tantissimo Lo sto usando davvero con molto piacere Dopo un primo impatto Dovuto alle dimensioni Poi ci si abitua Attualmente gli altri mi sembrano piccoli Questo mi sembra giusto L'unico difetto Si potrebbe avere nel caso Avessimo delle tasche particolarmente strette I pantaloni Allora questo dispositivo in tasca Nelle tasche strette non ci entra Quindi da valutare a seconda delle proprie esigenze Se è possibile concedersi un dispositivo così grande o no Va detto che comunque non è molto più grande Di dispositivi come il Galaxy S2 o il Sensation Che sono da 4,3 pollici Le dimensioni sono abbastanza simili Vi faccio vedere ad esempio il confronto con il Sensation Qua abbiamo il mio HTC Sensation Come potete vedere Sostanzialmente la differenza si ha in altezza E' un po' anche in larghezza Ma non più di tanto Come potete vedere Non è tantissime differenze Come spessore addirittura il Titan è poco poco più sottile O comunque siamo lì Quindi io personalmente non ho riscontrato problemi dovute alle dimensioni Però è giusto segnalarlo Che qualcuno potrebbe trovare difficoltà dovute a queste dimensioni particolarmente generose Detto questo io non vorrei perdere troppo tempo sul sistema operativo Che Mango conosciamo Windows Phone 7.5 Lo conosciamo ormai abbastanza bene E' davvero un sistema operativo eccezionale Dove praticamente è tutto davvero ben integrato Tutti i social network, la messaggistica E' tutto ben concentrato Messo al posto giusto E' davvero un sistema operativo eccezionale Su questo dispositivo Windows Phone dà il meglio di sé Perché abbiamo il dispositivo dicevo più potente sul mercato Infatti la reattività è sempre garantita Non ho mai assistito a un impuntamento O a qualche problema Inoltre questo telefono ha un hardware davvero eccezionale Anche al di là del processore Infatti facciamo delle foto davvero ottime Perché la fotocamera da 8 megapixel E' f2.2 Il che significa scatti rapidissimi Quindi non abbiamo l'effetto mosso quando scattiamo una foto Appena scattiamo lo scatto è istantaneo Inoltre abbiamo il sensore BSI Cioè retroilluminato Per gli scatti in condizione di scassa luminosità Faccio vedere ad esempio una foto panoramica Scattata con questo dispositivo Come potete vedere andiamo a zoomare E' tutto molto dettagliato Oppure vedete anche i colori Sono molto belli Vedete questo cielo Un azzurro molto intenso Molto bello E andiamo a vedere Questa foto è stata fatta ad esempio col flash Abbiamo i dettagli che si vedono davvero bene Ma anche quella lì fatta Senza flash Vedete Nonostante oggi fosse Moltissima luce in quella stanza Si vede davvero bene Come potete vedere Possiamo fare uno scatto in diretta Basta tenere premuto il tasto fotocamera Facciamo la foto al consueto orologio Come avete visto scatto è istantaneo Premo e scatta E non ho assolutamente effetto mosso O cose di questo genere In un attimo possiamo andare a rivedere la foto E come potete vedere è davvero molto molto definita Quindi davvero Nelle precedenti recensioni avevo criticato Cioè nelle recensioni dell'HD7 Ad esempio avevo criticato il comparto fotografico Perché l'HD7 faceva veramente delle pessime foto Per fortuna in questo dispositivo HTC ha fatto un lavoro eccezionale Mettendo un'ottima fotocamera Che non ha nulla da invidiare a quella del Nokia Lumia Nonostante là ci sia l'ottica Car Zeiss Io ho avuto modo di confrontare le fotocamera di questo Del radar e del Lumia E sia il radar che il Titan fanno delle foto esattamente uguali A quelle del Nokia Lumia Anche il comparto video è buono Infatti possiamo andare a fare un video Passiamo in modalità video E mettiamo la risoluzione 720 Quindi HD Andiamo a fare un breve video Andiamo a rivedere il video Durante i video abbiamo il focus continuo Ecco una particolarità di questo telefono È l'audio potentissimo Come avete sentito Anche l'audio registrato è davvero potente Comunque il video poi è sempre fluidissimo Non c'è il minimo scatto o altro In un attimo premiamo Usciamo fuori E vi dicevo appunto L'audio potentissimo Infatti voglio fare sentire ad esempio Un brano È la prima volta in cui finalmente È un dispositivo che in tasca quando suona Lo sento Perché ultimamente avevo seri problemi A sentire gli smartphone che suonavano Finalmente questo telefono si sente davvero potente Quindi quando arriva una notifica O c'è una chiamata Il telefono anche in tasca Lo sento sempre È davvero davvero potente Faccio sentire infatti Quindi è potentissimo Quindi avete sentito un comparto audio eccezionale Anche in chiamata Quindi in capsula L'audio è buono Io ho fatto moltissime telefonate In questi giorni L'audio è buono Parlando dell'autonomia Mi ha stupito Perché uno schermo LCD così grande Temevo portasse consumi eccessivi Invece vi faccio vedere A quanto siamo con la batteria Questa è la batteria all'86% Residuo è stimato 20 ore Il tempo all'ultima ricarica è 2 ore Ma non è vero Perché l'ho attaccato un attimino Per sincronizzare una cosa col pc In realtà è da molto più tempo che è staccato Col wifi è sempre acceso E ci ho smanettato moltissimo Quindi l'autonomia è davvero eccezionale Nonostante le dimensioni Dello schermo E la potenza del processore E il che mi ha stupito Devo dire Certo non siamo ai livelli dell'autonomia del radar Che andavamo sui giorni Qui però abbiamo comunque un'autonomia Nemmeno negli standard Direi sopra gli standard Rispetto alla fascia di Alla fascia in cui si va a posizionare Questo dispositivo Andiamo a vedere La navigazione internet Andiamo un attimino Ah faccio vedere Scusate La tastiera Che è su uno schermo così grande È davvero fantastica La tastiera di Windows Phone È già ottima di sua Ma in questo caso abbiamo Una tastiera davvero davvero ampia Il che è eccezionale Quindi possiamo andare a prendere Una pagina Qua siamo collegati in wifi E Internet Explorer Diciamo fa il suo lavoro Diamo un caricamento molto rapido Con un doppio tocco Andiamo a focalizzare Una casa in box di testo E lo zoom È sempre rapidissimo Molto preciso Quindi Devo dire Davvero buono Manca il flash player Però se andiamo a vedere Un video di YouTube Automaticamente viene Prelevato lo streaming Quindi riusciamo a vederlo Tranquillamente E non solo con i video di YouTube Ma con moltissimi altri video E quando diciamo Usano il flash player In modo standard Se noi tocchiamo il video Automaticamente Windows Phone Ce lo fa vedere Ce lo fa vedere correttamente Vediamo Se riesco a mostrarvelo Se riesco a mostrarvelo Se abbiamo il video confronto Vedete Nonostante senza il flash player Ci ne ho mostrato comunque l'anteprima E appena clicco Tocco Si apre in modalità video Lo streaming viene prelevato correttamente E nonostante E nonostante Se da qui Cercavo di toccare Ma vedete il video Fluidissimo Si vedete davvero bene quindi l'assenza del flash player è una pecca solo per quei pochi siti realizzati totalmente in flash lì purtroppo non riuscirete a vederle per mostrarvi la potenza del dispositivo posso vedere un gioco anche se i giochi dato la standardizzazione fatta da Microsoft i giochi girano bene su tutti i Windows Phone comunque qua giocare è particolarmente bello perché l'audio è molto potente sentite l'audio profondissimo l'audio è molto potente e lo schermo è grande quindi anche quando abbiamo i controlli su schermo non abbiamo problemi di sorta devo far vedere rapidamente che il gioco va fluidissimo come vedete i bassi tutti gli effetti audio sono davvero davvero belli da sentire non voglio tediarvi ulteriormente quindi ripeto un telefono davvero completo il miglior Windows Phone attualmente sul mercato perché unisce l'hardware più potente a disposizione quindi il processore da 1.5 GHz la memoria interna da 16 GB una fotocamera davvero eccezionale probabilmente siamo a livello delle migliori di Windows Phone quindi come il Lumia è uno schermo molto ampio in cui si può godere veramente bene dell'interfaccia metro io vi faccio vedere che so l'applicazione di Groupon secondo me è proprio la rappresentazione di come debbano essere le applicazioni metro è fatta davvero bene quindi abbiamo le cose in primo piano le varie schede, i miei coupon e così via e come potete vedere su uno schermo così ampio la navigazione è davvero piacevole avete visto prima anche la navigazione internet abbiamo una panoramica della pagina molto bella poi nei giochi vabbè dà il meglio di sé perché il processore è potentissimo lo schermo è molto ampio, l'audio è profondo e quindi davvero un ottimo telefono direi che non ha difetti nel senso che è difficile trovarci dei difetti l'unico difetto potrebbe essere il nero dell'LCD che in effetti non è nerissimo come potrebbe essere quello di un AMOLED ma io direi il vero ormai ci ho fatto l'abitudine e per me è perfetto però se lo mettiamo a confronto con un AMOLED tipo il Samsung Omnia W o il Nokia Lumia 800 allora sì, la differenza si vede, l'arine nero è più profondo comunque secondo me è una cosa su cui si può passare sopra e poi un altro difetto però intrinseco proprio nella scelta progettuale è quello della dimensione che potrebbe essere un limite per alcune persone a seconda delle proprie esigenze e quindi da valutare è questo quindi potete sorvolare sul nero e le dimensioni non sono un problema direi che questo è sicuramente un acquisto da fare a patto che vi piaccia Windows Phone a me piace molto ma ognuno ha i suoi gusti e se vi piace Windows Phone allora sicuramente questo è il miglior Windows Phone che potete acquistare un saluto a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com e quindi